Il Centro di Riabilitazione Teri offre riabilitazione e fisioterapia completa di percorso in piscina calda a 34 gradi. Ti aspetta Cava dei Tirreni in via Gino Palumbo numero 19. Conto alla rovescia per la mostra di altissimo profilo che rilancerà la città di Cava dei Tirreni come la culla della cultura del mezzogiorno. Un'esposizione internazionale d'arte, 4 giorni e 50 artisti che esporranno nelle varie discipline di pittura, scultura, fotografia e ceramica. Tra questi anche i 10 artisti della selezione Vittorio Sgarbi, indicati dal professore nel corso della manifestazione internazionale d'arte contemporanea Arte Salerno, svoltasi a giugno. E per rimanere nei termini dell'arte contemporanea vi sarà altresì una mostra digitale con altri 50 artisti. Nella qualità di critico d'arte Vittorio Sgarbi darà il suo apporto nella 4 giorni patrocinata dal comune di Cava dei Tirreni. Tra i momenti salienti della prima biennale internazionale d'arte di Cava dei Tirreni, quello di venerdì 8 dicembre, dove i protagonisti di Scava Arte, Franco Bruno Vitolo e Gianluca Cicco, ripercorreranno le strade del rapporto tra Cava dei Tirreni e l'arte. Indiscutibili, infatti, le doti e il talento dimostrati dai noti artisti cavesi nel corso dei secoli, nonché delle suggestive virtù della città che hanno ispirato molteplici artisti di tutto il mondo. Arte, cultura, teatro, workshop emozionali e musica. Si torna a fare cultura ad alto livello a Cava dei Tirreni, all'interno del complesso monumentale di San Giovanni Battista. Il taglio del nastro domani 7 dicembre alle ore 17.